Forse la cosa più terrificante che si può registrare è proprio neanche l'inciviltà, neanche la guerra civile, qualcosa che è proprio vicino al disprezzo della vita umana. Solo disprezza la vita umana significa davvero che disprezza anche se stesso. E' peggio dei kamikaze dell'Isis, è veramente peggio perché lì c'è una consapevolezza, perlomeno. Qui c'è solo una sciatteria che porta a considerare tutto affrontabile in maniera superficiale e nulla meritevole di un briciolo di attenzione, di un briciolo di approfondimento, anche se questo porta la morte dei propri simili. Quindi oggi, dopo tanti giorni, finalmente c'è stata una svolta sulle indagini del grave incidente a piazza a Largo Gugola Malfa, sopra il Circo Massimo, che ha visto la morte di un ragazzo di 31 anni. E oggi finalmente, dicevamo, sulla stampa c'è stata la svolta. Dopo tantissimi anni, la stampa romana, chissà perché, qualcuno potrebbe dire influenzata dal nostro video che abbiamo fatto subito, senza aspettare neanche 24 ore dall'incidente, qualcuno potrebbe pensare influenzata da quello. Ma insomma, sta di fatto che finalmente la stampa italiana, la stampa cittadina, si resta conto che gli incidenti non li provoca solo chi cammina con la macchina, ma li provoca anche chi sta fermo con la macchina, se questo stare fermo comporta essere di ostacolo, di intralcio, a chiudere le vie di fuga, a togliere la visibilità. Questo è successo, lo sappiamo ormai tutti, e oggi finalmente i giornali lo riportano con chiarezza qui al Circo Massimo, per colpa di auto parcheggiate male. Un ragazzo ha perso la vita. Si potrebbe pensare che almeno nei giorni così successivi al fatto delittuoso, al lutto, qualcuno avesse il buon senso, il buon cuore, la dignità di evitare di ripetere quell'errore. E invece, come potete vedere, la situazione è questa. Le strisce blu finiscono in questo punto, mentre i SUV corrono a 70 all'ora, dopo le strisce blu ci sono una serie di fuoristrada parcheggiate in divieto, esattamente, come potete vedere, sulla traiettoria che è costata la vita allo scuterista tre giorni fa. Questo signore con la sua Renault si è posizionato, senza ovviamente la minima contravvenzione, in curva, esattamente come era posizionato il furgone dell'ambulante che ha provocato la morte di Simone. E non c'è, non solo nessun tipo di controllo, almeno per figura, almeno per dignità, almeno per rispetto a chi è morto così pochi giorni fa, e si è collocato parcheggiandosi sopra la chiazza di sangue. Che è uscita probabilmente dal colpo, dalla testa della vittima. Questo è peggio di qualsiasi cosa, è peggio di qualsiasi tipo di terrorismo, è peggio di qualsiasi tipo di meschinità, è peggio di qualsiasi tipo di guerra civile, ed è ancora peggio pensare che questa persona lo faccia senza minimamente rendersi conto di cosa sta facendo. Perché chiaramente, probabilmente, è una persona che non legge il giornale, è una persona che non sa cosa è successo, è una persona che non vive in una città, vive in un agglomerato di strade, di palazzi, di lamiere e di persone che è impossibile definire città. Eccola lì, la macchina di cui abbiamo, le macchine di cui abbiamo parlato fino ad oggi, i palazzi imperiali, del palatino, laggiù il celio. Guardiamo se questo rischio che si prende questa persona è veramente un rischio calcolato in maniera corretta, nel senso che proprio non si poteva fare altrimenti, no? C'era veramente una spinta, una pressione incredibile, che porta la gente perfino a comportarsi in quel modo così atroce. e guardiamo qual è l'offerta di posteggio a 25 metri dalla scena del delitto. Sono le 10 e mezzo di giovedì 14 gennaio. In questa zona, come sempre, è pieno di posteggi liberi, decine e decine di posti autoliberi. A voi i commenti, anche in questo caso, perché francamente abbiamo forse parlato anche troppo.